ebbene sì eccoci qua tornati su dissidia final fantasy o però una versione giapponese perché è uscita l'ld di jack un ld abbastanza interessante magari ne parleremo meglio poi su twitch dato che poi sarò in live stasera su twitch per completare gli eventi di jack oggi però pulliamo e soprattutto sto pullando la mattina quindi sto pullando adesso la mattina proprio perché il mio obiettivo in realtà sarebbe sculare artemisia non lo nego trovare artemisia adesso mi risparmierebbe i token che potrei utilizzare per un personaggio più in là mentre invece se non dovesse essere così sono quasi pronto ad utilizzare i token e sicuramente la mia scelta sarà artemisia detto questo io direi che non c'è nient'altro da spiegare non c'è nient'altro da dire possiedo ben 100 ticket per cui vediamo o l'ldd di jack o la bt di artemisia anche perché per il resto possiedo tutto soprattutto quel maledetto di ranza ma vabbè lasciamo perdere detto questo mi muto e godetevi le pull un po' di artemisia e un po' di artemisia e un po' di artemisia Grazie a tutti. 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 Ok, basta. Abbiamo finito per ora. Bene. Io a questo punto vi do appuntamento stasera su Twitch. Magari, magari, stando insieme in live, puleremo il video, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.